Presidente dell'Assemblea Provinciale del Partito Democratico, da dove ricominciare? Soprattutto dal ruolo che deve avere e deve essere soprattutto centrale di riorganizzazione di un'Assemblea che deve esprimere vivacità, capacità politica, ma soprattutto indirizzi forti, affinché il partito possa sempre più radicarsi sul territorio, ascoltando la gente, ritornando alla piazza, all'agora, quell'agora che deve rappresentare il punto di partenza e di riferimento per riempire di contenuti forti e dare l'input necessario al rilancio del partito. Presidente, in vista appuntamenti elettorali importanti dal Comune e poi anche a livello nazionale, il Partito Democratico su cosa punterà? Ma certamente su quelli che sono i temi fortissimi di solidarietà che ci vede coinvolti, soprattutto su un paese che ormai è denominato il paese della forbice, dove noi dobbiamo rispondere soprattutto con forza, ma soprattutto con l'Italia del sasso. Questo sasso che dobbiamo lanciare come grande sfida ascoltando i temi importanti, che sono quelli della ricerca scientifica, dei problemi collegati con la riforma dell'università, della istruzione, del welfare che entra sempre più in un vortice, una forbice che si allarga sempre di più, dove gli ultimi rimangono sempre per ultimi e questo non va bene. Sui temi del lavoro, dell'occupazione, che significa ovviamente rilanciare quelle che sono le opere di sviluppo, ma soprattutto gli intendimenti di uno sviluppo sostenibile, ma che guardino con attenzione al rilancio di un'economia, che certamente deve essere un'economia, quella del Salento, che guarda dall'agricoltura alla sostenibilità ambientale, al turismo e non solo, anche alla infrastrutturazione culturale, che rappresenta per noi un punto di riferimento di un'elevazione e crescita culturale e sociale nello stesso tempo. Presidente, i lavori dell'Assemblea non sono stati molto facili in questo ultimo periodo? Che clima ora si respira? Il Presidente è il Presidente di Garanzia e quindi sarò il Presidente di tutto e sarà un clima soprattutto di convivialità e di gioia, quella gioia che deve esprimere la necessità di lavorare insieme, per lavorare insieme nell'interesse generale delle nostre comunità e di questo grande e generoso partito. Che cosa pensa di queste alleanze allargate sia per conquistare Palazzo Carafa e anche per conquistare il Governo centrale? Noi partiamo da quello che è lo zoccolo duro di un partito democratico riformista e progressista, allargando la visione e la mission ovviamente a quelle che sono le forze che guardano con attenzione ai problemi sociali e ai problemi della gente. Ovviamente la grande battaglia dal nazionale alla periferia è quello di scalzare una destra che è populista, una destra che certamente non guarda a quelli che sono i problemi della gente. Ovviamente le alleanze si faranno rispetto alle necessità, ma soprattutto guardando con attenzione al centro-sinistra. Infine Presidente, quanto il Partito Democratico nel Salento sta ancora scontando la perdita di personaggi importanti del partito che ora non sono più attivi? Dobbiamo riprendere anche le riflessioni su questo dato e far sì che tanti amici che magari si sono allontanati, che non sentono più la politica come un fatto di generosità come lo hanno fatto per tanti anni, cercare di riprendere con loro quel filo che si è interrotto e riportarli all'interno non solo del partito, ma di un discorso politico che può rappresentare il valore aggiunto per tutti noi. A quelle persone noi diciamo che il Partito Democratico è un grande laboratorio, quel laboratorio di pluralismo che certamente nei contenuti, ma soprattutto con questo grande contenitore, può diventare il punto di riferimento di tante persone.